ciao e bentornati in questa nuova puntata di ark ciao ciao in realtà è la parte 2 di quella prima è la serie 1 wave 2 ecco appunto come ne rollo uguale mi sto per creare una somiglianza quindi cosa andremo a fare oggi allora quest'oggi andiamo a cercarci il nostro posto per costruire la casa che girovagando per il mondo la mia sfera lancerò ho pensato di farla lassù in cima a quel cucuzzolo vedi dove c'è il ponte perché è un posto che ci è favorevole perché non abbiamo dinosauri cattivi in giro e possiamo fare una casettina senza nessuno che ci venga rompa le scatole allora per costruire una casettina dobbiamo partire dalle fondamenta brava vedi quindi essendo noi adesso vedete praticamente tutto sbloccato perché sono col mio personaggio che uso abitualmente lo lo faccio perché è un po più semplice farvi vedere il tutorial quindi voi mano a mano che giocate all'interno dei vostri punti engram vedete che al punto 4 ci sono le fondamenta di paglia quindi la base da cui partire per farvi una piccola casetta per poter poi recuperare le dove poter craftare le vostre cose e potervi un giorno espandere quindi in questa zona abbiamo alberi pietre fibra purtroppo arc vincola molto sulle cose che dovete fare perché sinceramente se uno ci investe un po di tempo potrebbe già partire con le cose in legno è che i livelli or che ci arrivi a lì come livello è un po più ti obbliga a fare questi passaggi e allora noi facciamo come dice lui vedete quello un raptor quello se vi becca ci killa in un istante quindi noi sloggiamo l'area che vedete quello parasauro e un herbivore non vi fa niente però il raptor perché uno non lo sa c'è scritto questa roba no perché non so se carnivoro e herbivoro allora in particolare quello è anche un alfa vedere è proprio il più incazzoso di tutti quello lì quello esatto quello più incacchiato di tutti è proprio lui quindi non spaventatevi se le prime volte morirete in malo modo perché arca è così prima i tre quattro ore di gioco dovete sbattervi dovete darvi proprio da fare allora abbiamo qui i nostri alberelli diamo quattro belle legnate così vi dà la legna vi dà la paglia vedete continua continua sicamente dovete stare attenti bello captero dattilo quello ptero dattilo vedi vedi amore con gli opto dattilo poi per chi ha visto giurassi park è più semplice perché i dinosauri su citricerato possono se è disidratato o io 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 abbiamo sette quindi questa è una cosa che vi ho anche detto precedentemente se c'è caldo l'acqua va giù molto in fretta quindi dovete cercare di un posto vicino all'acqua quindi dovete cercare di arrivare all'acqua più fredda possibile se no morite perché logicamente la stabina quindi il vostro fulmine cala perché se fate compite delle delle azioni lui ve lo toglie e per recuperarlo deve bere e mangiare quindi potete bere l'acqua del mare va bene uguale è salata però bene siamo di nuovo a pieno regime poi nei prossimi video quando costruire una casa fatta meglio ci sa c'è anche il modo per portarvi l'acqua in casa per al momento dovete un po c'è anche la borraccia che al livello 4 sbloccate che lo 3 però vi serve la pelle la pelle è un po complicata andare a prendere per le reti uccidere dino dino più facile uccidere il dodo quindi arriva il momento che andremo a caccia di dodo questo chi è è un personaggio potete anche trascinare il corpo se vi va anche ben vestito era proseguiamo quindi logicamente il mio consiglio è di fare due volte non correte con shift perché sennò vi bruciate tutto il vigore e poi addio bene vediamo se abbiamo ricolto materiali sufficienti per costruire paglia ok possiamo fare le fondamenta allora in questo caso facciamo crea possiamo crearne due facciamo due come vedete lui tanto le sta craftando e adesso possiamo andare a mettere le nostre fondamenta dove vogliamo fare la casa così prendiamo possesso del posto perché la fondamenta da un raggio una persona di un'altra tiburra un può costruirti vicino perché sennò poi si litiga tra confinanti allora è un modo per dalla possibilità a tutti di giocare e di avere il proprio posto perché sennò ti costruiscono mega basi troppo vicine allora ecco sta avendo a piovere ecco una cosa un trucchetto di arca che se piove vi ricarica l'acqua a gratis è un bug del gioco se piove ti si ricarica l'acqua gratis quindi all'inizio è sempre meglio che piove così non dovete preoccuparvi dell'acqua il cibo sapete che avete le bacche che potete mangiarle sempre col tasto e attenzione le bacche nere che vi fanno dormire e le bacche bianche che invece sono stimolanti e vi fanno dar giù la sete l'acqua in maniera molto repentina prendete le vostre fondamenta le mettete in uno slot che preferite e lo scegliete vedete adesso lui vi da dove posizionare la vostra fondamenta dove c'è rosso non potete costruire sul verde potete costruire allora in questo caso mettiamo giù la prima con un tasto con un click lei blocca la posizione però puoi ancora ruotarla per magari dare un orientamento che più ti piace con l'altro click la metti giù arc ha introdotto questo sistema che hai 30 secondi per ritoglierla perché se una volta che passi 30 secondi per distruggerla per toglierla devi distruggere e quindi lasci praticamente ti ritorna indietro soltanto metà delle risorse investite ok se si vuole costruire un'altra si prende un'altra fondamenta e vedete che ci sono i punti di snap cioè di collegamento lei ti collega in una delle quattro posizioni che tu preferisci per nella destra sinistra in alto in basso quindi noi la mettiamo qui e proseguiamo a costruire le altre una volta posizionate le fondamenta ne abbiamo facciamo di solito si fa il classico due per due in questo caso si fa il classico due per due poi se volete potete fare anche tre per tre potete espandere di solito per i giocatori che non hanno un gran tempo di giocare magari inizio il due per due più che sufficiente e cominciate a poi a mettere i muri si è dello stesso formato quindi avete sempre il punto di snap che in questo caso è alla base della fondamenta i muri sono sempre all'interno della del livello 4 devi sbloccare l'engram come abbiamo sbloccato le fondamenta di paglia e poi tramite le risorse vai su creazione esatto paglia come ho fatto le fondamenta sono tutti qua puoi fare crea 1 crea una certa quantità o crea tutti in base alle risorse che hai nell'inventario si può fare uno per un muro uno è una persona praticamente a pelo a pelo però se si si investe quei cinque minuti in più si può fare un per due che almeno ti dà un po di sicurezza per secco adesso c'ha fame quindi facciamo così ok poi nello stesso modo abbiamo creato anche l'ingresso per la porta andiamo a prendere da mangiare perché sennò questo continua a far versi strani poi ma allora vediamo nella pedali un po di bacche ecco perché bisogna sempre avere una scorta di bacche all'inizio è molto importante farne subito una scorta bene abbiamo fatto mangiare il nostro amico allora in questo caso abbiamo creato anche i soffitti sempre nello stesso modo perché le costruzioni una volta che ne costruite una c'è lag che non fa neanche costruire come vedete ha sempre tutti i punti di snap questo caso basta dove sono acqua e scusate lag vedete che vi dai punti di snap allora vi mettete il soffitto sopra la vostra bella testolina tac tac logicamente la nostra casa anche una porta quindi un ingresso mettete la porta mettete l'ultimo muro che vi resterà qua sopra e avete fatto la vostra bella casetta due per due adesso dove la porta la porta è qui la aprite e tratta nella vostra casetta due per due questo è come costruire una casa il passo successivo sarà fare il sacco a pelo perché il sacco a pelo bisogna andare a caccia di dodo mettete like al video e questo c'è ancora fame non so devo è un debito è un debito è sempre affamato un saluto alla prossima ciao ciao ciao